Cari amici del farone rosa nero eccoci qui a commentare un 5 a 0 potremmo anche dire ma che la commentiamo a fare sulla partita ma basta torniamo a fare le cose che ci piacciono di più dimentichiamola, dimentichiamo di questo disastro diciamo forse è quello che la squadra dovrebbe fare, cioè veramente dimenticare questa partita che era veramente già possiamo considerarlo un disastro annunciato perché io sono sincero, lo dico sinceramente ieri i colleghi, amici, chi mi chiedeva quanto finirà un pronostico su questa partita io dicevo 5 a 0, ma non lo dicevo scherzando, non ero ironico io prevedevo già un 5 a 0 per questa squadra perché non vedevo segnali che potessero dare ottimismo io ho sentito anche un'intervista a Sorrentino che diceva una squadra come il Palermo non può perdere così una squadra che lotta per la promozione sì ma ragazzi ad oggi il Palermo fatica anche in Serie B quindi la formazione che è andata ieri in campo con quel 3-5-2 inventato non so da dove con Vasic, con Peda, con Buttaro, con un Sirico disastroso avrebbe faticato in questo momento anche in Serie B per me una squadra di questo tipo perché in questo momento il Palermo non ha dimostrato ancora di essere una squadra da promozione figuriamoci con le seconde linee, con gente che giocava la prima partita da titolare come Baniglia che poi ha fatto anche Benino, con l'Eduaron anche lui prima da titolare come fai a pensare che una squadra del genere, una cozzaia di giocatori di questo tipo con Ceccaroni anche lui disastroso, vada a Napoli e non prende 5-6 gol e dobbiamo dire anche che siamo rimasti in 10 insomma tutto sommato c'è nato anche meno peggio di come poteva andare ragazzi qui vedo gente che si attacca all'arbitro ma che senso avere? io voglio dire, quando tu parti dopo 11 minuti prendi due gol di quel tipo lì con Sirico che sembra uscito dal sarcofago che mi dispiace veramente perché gli voglio bene questo ragazzo rappresenta per noi tantissimo a livello storico però ragazzo, il primo gol è suo il secondo può fare molto meglio di come ha fatto poi il terzo c'è Caroni che si perde One Jesus nel quarto c'è Caroni che gli regala la palla a quell'Arte e segna quando hai sta gente qua, titolare a Napoli, a San Paolo, al Maradona scusate, ma che cosa che cosa pretendi di più? anche lo stesso Vasic, Peda, questa gente qua non puoi andare lì, pensare che non fa la differenza in Serie B e pensare che possa fare bene ora, io posso dire perché non mi sto a legare ecco, vi dico quello che un po' mi è piaciucchiato Baniglia mi è piaciucchiato Lunda ha fatto il suo il Brunori ha preso un palo dimostra una capacità tecnica importante peccato che poi l'Eduaron non è riuscito a ribattere in rete l'Eduaron stesso io continuo invece ecco, l'unica cosa che secondo me viene fuori da questa partita è che un po' mi preoccupa che l'Eduaron sia più una punta sia più una seconda punta che è un esterno di destra cioè questo mi viene da pensare più che mi preoccupa ancora di più il fatto di vederlo titolare a destra cioè come lo metterà titolare a destra l'Eduaron a fare l'esterno perché tutto mi sembra un esterno questo ragazzo più lo guardo più mi dà quel però io non vedo l'ora di vederlo crossare a questo punto cioè nel senso perché poi l'esterno d'attacco deve anche segnare e questo l'abbiamo sempre detto quindi magari non è lui non è sulla fascia di destra che si punterà i cross ma sarà dal lato di Francesco che ne so nel senso avere uno così è utile però vedrò voglio capire la collocazione tattica di questo giocatore sono molto curioso di capirlo detto questo questo preambolo su l'Eduaron cosa c'è da dire su questa partita? usciamo ma perché era già previsto dobbiamo dimenticarcela non è in questo momento abbiamo giocato in un modo diverso quindi giochi torneremo immagino al 4-3-3 in campionato un modulo che forse andava provato in campionato non in Coppa Italia non ha senso cambiare modulo in Coppa Italia secondo me però io non sono un allenatore o perlomeno magari si aspettava qualcosa di diverso non lo so comunque va bene anche il discorso del modulo secondo me anche col 4-3-3 qualsiasi cosa avremmo fatto secondo me ieri non saremmo riusciti a fare niente di molto diverso da quello che poi si è visto poi ci sarà l'espulsione che ha peggiorato tutto però insomma ragazzi il Palermo in questo momento è proprio un cantiere io non vedo una squadra collaudata una squadra che può andare a Napoli a fare la bella figura come si può pensare di una squadra che sta lottando ai vertici della Serie B cioè in questo momento Napoli è una squadra fortissima Napoli è una squadra che con le seconde linee potrebbe giocarci tranquillamente e salvarsi in Serie A è una squadra che punterà allo scudetto c'ha Antonio Conte come allenatore ragazzi parliamo di un altro livello completamente poi con quelli schierati ieri ancora di più non mi preoccuperei di questa partita quello che voglio dire io non mi preoccuperei moltissimo io vorrei solo dimenticarla e sono partite che le squadre di Serie B secondo me con questo format è meglio che non giochino perché cioè che ci vai a fare a Napoli a San Paolo cosa ci vai a fare cioè se pensiamo al Pisa che è straprimo in Serie B e poi perde in casa col Cesena cioè sono cose la Coppa Italia vale fino a un certo punto se poi ci aggiungi anche che vai a giocare con squadroni in casa loro cioè è un format perdente in partenza questo per le squadre che arrivano dal basso quindi io direi di chiuderla qui senza grandi trammi spero che i giocatori non si facciano troppe paranoie e che pensino forse di più al pareggio in casalingo col Cesena che quello si mi ha fatto incazzare più che sta partita qua che insomma vabbè lascia il tempo che trova io non me ne farei non mi farei non ne farei troppi drammi puntiamo a fare bene a Bolzano adesso man mano che vai avanti visto che hai iniziato male dovrai recuperare e io spero che il Palermo pian piano riesca a recuperare il tempo perduto ecco Baniglia mi dà l'impressione che in B possa essere un difensore fortissimo non vedo la rivederlo titolare c'è rientrato Lucioni che ha partecipato ieri alcuni minuti cioè ecco recuperiamo intanto quello il recuperabile certo non Blender ormai mancherà per almeno 3-4 mesi dobbiamo fare una ragione speriamo di recuperare Verre insomma recuperiamo i giocatori speriamo che diminuiscono questi infortuni muscolari strani si è aggiunto anche nel del Cearo adesso che non ne stanno manco convocato insomma un po' troppi questi infortuni muscolari e puntiamo a crescere di partita in partita perché il campione di Serie B è lunghissimo pensiamo a quello pensiamo a capire se siamo in grado di rimetterne in sesto questa questa stagione perché adesso con la vittoria a tavoli il Pisa è andata a più 8 e a 16 punti noi abbiamo 8 ecco non è ancora tempo di giudizi e di tirare linee di fare giudizi definitivi però bisogna darsi una smossa e cercare di cambiare il trend e sperando che sia la volta buona perché ragazzi ovvio che alla terza stagione insomma un pochino qualche domanda ce la facciamo quindi speriamo che sia l'anno buono ci rivediamo per il commento di sul Tirol Palermo lunedì alle 19.30 e che speriamo che preghiamo preghare queste cose no però che devo fare non so fate quello che volete ciao